Don Patriciello a Sandocan, la storia non ti perdona, lettera del parroco di Caivano a Francesco Schiavone che ha deciso di collaborare con la giustizia, indietro non si torna. Ma ora dica tutto quello che sa, anche da Libera Campania l'appello verità sugli affari tra politica e clan. San Giuliano a Pompei ci sarà il G7 della cultura, l'annuncio del ministro durante la presentazione del Pompei Teatrum Mundi, la prestigiosa rassegna teatrale realizzata da Teatro di Napoli e Parco archeologico di Pompei. Manfredi, dal passato leggiamo il futuro. Turismo, Napoli si conferma regina dei siti culturali. Numeri da record in città, folla tra Decumani, Cristovelato e Girolamini, ma è polemica sui trasporti. Bene anche il Parco del Vesuvio ed il presidente del Parco, Di Luca, dice c'è stato il sold out tra sentieri e strutture sul vulcano. Salerno, bene la costiera, ma sui trasporti è caos. Subito un protocollo con Comune e Prefettura per affrontare nuove possibili criticità. È l'appello dei sindacati per scongiurare altri disservizi per i turisti, lasciati a Pasqua a piedi, senza traghetti e senza bus per la costiera. Confindustria, Benevento, Ok, il turismo trae in all'economia. Numeri importanti per il settore nel periodo di Pasqua. La presidente Teresa Romano traccia il bilancio e rilancia ora a studiare i dati per proposte mirate a chi sceglie il sannio. Anche in Irpini ha successo per il Terminio ed il Laceno. Le principali notizie di oggi nei nostri titoli. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. Prendi il coraggio, si uomo e raccontaci tutto, lo dice Don Patriciello a Francesco Schiavone, il boss dei Casalesi che ha iniziato a collaborare con lo Stato. Il parroco di Caivano scrive una lettera indirizzata proprio a Sandocan. Aiutaci ad esterpare il male ed il referente di Libera Campania. Ora si possono svelare le collusioni tra politica e camorra e le responsabilità sulla terra dei fuochi. Il servizio. Di certo lui conosce i segreti sull'avvelenamento di decine e decine di ettari di campagna. Un tempo rigogliosa. La missiva di Don Patriciello a Francesco Schiavone, il capo della cupola casalese pentitosi dopo 26 anni di carcere, si apre con un caro Francesco, ma in realtà è un duro richiamo alle responsabilità del boss. Non mancano quelli che credono che la tua sia stata solo una scaltra mossa per lasciare il carcere, ora che hai 70 anni e sei affetto dal cancro. Don Maurizio vorrebbe spiegazioni. Non mi capacito di come tu, persona intelligente, abbia potuto credere di vivere serenamente insieme a chi ami, seminando morte e terrore. L'ultimo paragrafo della lettera è un accorato invito. Il sacerdote si appella al cuore del boss. Francesco insiste. Prendi coraggio a due mani e raccontaci tutto quello che sai. Tanti colletti bianchi stanno tremando. Aiutaci a estirpare la maledetta zizzania alla radice. Non aver paura, si uomo e si forte. Intanto il referente di Libera Campania, intervistato dal direttore di 8 Channel, Pierluigi Melillo, spera davvero, in una sua deposizione, una vera collaborazione. Quello che ci attendiamo è relativamente alla possibilità di conoscere i misteri, i segreti che tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno visto Francesco Schiavone, detto Sandokan, ed altri esponenti del canne casalesi a capo di lunghe vicende criminali che hanno riguardato i nostri territori. Omicidio di Camorra del 2003, risolto dopo 21 anni. In carcere finisce un boss incastrato dai pentiti. I carabinieri di Mondragone hanno arrestato Giacomo Fragnoli, reggente del clan Fragnoli La Torre, accusato di essere il mandante dell'efferato omicidio al bar Roxy di Mondragone, avvenuto il 14 agosto del 2003. Nel corso del raid fu ammazzato Giuseppe Mancone, affiliato al clan La Torre, freddato con vari colpi d'arma da fuoco. Nel corso dell'agguato rimasero ferite anche altre due persone. Per tale delitto è già stato condannato all'ergastolo Salvatore Cefariello, esecutore materiale killer in prestito dal clan Birra Jacomino di Ercolano. Le indagini sono state riaperte dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ercolanesi che hanno chiarito il muovente dell'azione criminale scaturita nell'ambito delle dinamiche criminali mondragonesi per un mancato pagamento della rata mensile sull'attività di spaccio. Pompei Teatrum Mundi, presentato al MIC il programma della prestigiosa rassegna teatrale realizzata in collaborazione tra il Teatro di Napoli e il Parco archeologico di Pompei. Orgoglioso il sindaco Manfredi, dal passato possiamo leggere il nostro futuro ed il ministro San Giuliano annuncia Pompei ospiterà l'evento di apertura del G7 Cultura. Il teatro classico ci dà una rilettura complessa del mondo in cui viviamo oggi. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi partecipando a Roma al Ministero della Cultura la presentazione della settima edizione di Pompei Teatrum Mundi, la rassegna teatrale che si svolgerà dal 13 giugno al 13 luglio nel Teatro Grande del Parco archeologico. Manfredi ha rimarcato poi il legame indissolubile che c'è tra Napoli e Pompei, due realtà non scindibili. Questa sinergia con Pompei è un po' un qualcosa in più. È il modo con il quale il teatro stabile dà un contributo all'offerta teatrale classica che rappresenta sicuramente nella nostra città e nella nostra regione un patrimonio che va coltivato, va alimentato e va proposto soprattutto alle giovani generazioni. Ad aprire la rassegna il 13 giugno l'odissea cancellata di Emilio Esgro con la regia di Giorgio Sangati mentre la chiusura è affidata al Fedra di Euripide con la regia di Paul Carran il 13 luglio. Poi a settembre Pompei torna sulla scena internazionale ma stavolta per ospitare il G7 della cultura come ha annunciato il ministro Gennaro Sangiuliano. Noi teremo l'evento di apertura del G7 della cultura quindi con i ministri della cultura che già hanno assicurato la loro presenza delle sette potenze industrializzate del pianeta ma noi l'abbiamo ampliato anche ad altre nazioni perché inviteremo il Brasile che è titolare del G20, l'India. Anche in quell'occasione Pompei sarà un teatro di incontro internazionale perché merita per l'unicità e per il valore della sua storia. E plaude il ministro Sangiuliano per i numeri da record dei siti culturali campani boom per gli scavi di Pompei, Napoli-Regina, folla tra Decumani, Lungomare, Cristovelato e Girolamini ma è caos trasporti, trionfo Vesuvio ed il presidente del Parco dei Luca d'Otto Channel dice 2666 accessi solo sul cratere ma è stato sold out tra sentieri e strutture. Napoli-Regina del turismo per Pasqua e Pasquetta ma trionfano anche tutti i monumenti e parchi archeologici della regione Campania con le visite di turisti da tutto il mondo. La scelta di tenere aperti tutti i nostri siti culturali si conferma scelta vincente per garantire un'ulteriore spinta ad aumentare sempre di più la qualità della nostra offerta culturale conferma il ministro Gennaro Sangiuliano che ringrazia tutti i lavoratori del MIC per la due giorni di straordinario impegno. Record assoluto per il Parco archeologico di Pompei con 28.995 visitatori terzo sito su graduatoria nazionale lunedì in albis da sold out al Cristovelato e Girolamini al Man Lungomare, Decumani e quartieri spagnoli primi tuffi alla gaiola ma è stata paralisi trasporti con il caos alla stazione Garibaldi e la paralisi delle strade con blocchi anche sulle corsie riservate a taxi e mezzi pubblici. Un vero e proprio trionfo quello registrato nel Parco del Vesuvio con 4.970 presenze in vetta nella due giorni e il tutto esaurito tra sentieri, strutture ricettive e aziende agricole. Una straordinaria partecipazione di visitatori che hanno potuto apprezzare la straordinarietà del nostro sito naturalistico, la bellezza del nostro paesaggio e hanno potuto gustare così anche le nostre eccellenze enogastronomiche. Una straordinaria partecipazione che apre così la stagione turistica e che ci fa ben sperare per il proseguo. Siglare un protocollo tra Comune e Prefettura per farsi trovare pronti in caso di nuove criticità è l'appello dei sindacati per scongiurare altri disservizi per i turisti in arrivo a Salerno lasciati a piedi a Pasqua senza traghetti e senza bus per la costiera a Malfitano. Evitare che si creino nuove criticità e disagi per i turisti in arrivo a Salerno dopo la brutta figura di Pasqua con tantissimi visitatori rimasti a piedi a causa dello stop dei traghetti per la costiera a Malfitano e per il mare Mosso e i bus fermi. L'amministrazione promette di intervenire per garantire il trasporto pubblico. Parlerò con Bus Italia per verificare la possibilità di incentivare e non creare difficoltà al traffico su bus pubblici. Comunque c'è bisogno di uno sforzo corale. Stessa richiesta rilanciata anche dai sindacati. Oltre alle linee soppresse come giorni festivi ha accentuato i disagi il fermo delle vie del mare. Purtroppo questa è una criticità sulla quale abbiamo richiesto di intervenire. Abbiamo richiesto a gran voce un tavolo tecnico con Capitaneria, Autorità di Sistema e anche Regione Campania per tentare di trovare una soluzione, una soluzione tampone che può essere usata nei momenti di emergenza. I sindacati rivolgono poi un appello al Comune per scongiurare altri disservizi in vista dell'estate e non farsi trovare impreparati. Scriveremo nuovamente al Comune per tentare di attivare durante i giorni festivi un servizio adeguato per la cittadinanza, ma scriveremo ancora tuttora alla Prefettura per tentare di mettere in essere tutti gli attori necessari affinché questo protocollo venga siglato e permetta di poterci trovare pronti per la prossima criticità. Pasquetta con un bilancio decisamente positivo in Irpinia, in particolare sul Mondeterminio. Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, dice visitatori, tutto sommato civili, pochi rifiuti in strada, lavoriamo su infrastrutture e ricettività per un turismo più stanziale. Pasquetta, i Monti Irpini fanno il pieno di turisti, boom di presenza in particolare sul Monte Terminio per la classica gita fuori porta. Un barbecue, un picnic, qualcuno ha scelto gli agriturismi per trascorrere a contatto con la natura questo lunedì in Albis. Soddisfatto il sindaco di Serino, Vito Pelosi. Sono venute persone da tutta la regione, quindi Salernitano, Napoletano, le attività erano tutte piene. Ovviamente, come in questi casi, dove c'è un'affluenza magari anche maggiore rispetto alle previsioni, c'è stato un bel po' da fare per mantenere un po' la viabilità, la sicurezza, perché le macchine erano tante, le persone erano tante, però, come dire, meglio l'abbondanza che la scarsità. Spesso il giorno dopo si è costretti a fare i conti con l'inciviltà, dei visitatori e i tanti rifiuti lasciati in strada, nei boschi, nei sentieri, stavolta è andata meglio del solito. Stamattina la Polizia Municipale ha fatto un giro un po' su tutto il territorio. Rispetto alla quantità di persone che è venuta, a quello che è stato trovato, diciamo che c'è stato un maggiore rispetto dell'ambiente. E ora però che in Irpinia si inizia a ragionare su un turismo meno mordi e fuggi è più stanziale. Occorre dare una serie di servizi a chi viene, occorre che le infrastrutture siano al passo con i tempi. Questo lo stiamo facendo da un po' di anni, stiamo adeguando la viabilità, quindi le infrastrutture viarie nuove. Abbiamo portato la fibra ottica e sarà tra poco attiva anche nei territori su al terminio, diciamo dove stanno le strutture. Ecco, questo è il salto di qualità che credo da qui a breve tempo, Serino si predispone, strutture nuove, ricettive. Numeri importanti per il turismo di Pasqua. Siamo soddisfatti. Il presidente della sezione di turismo di Confindustria Benevento, Teresa Romano, traccia il bilancio e dettaglia. Ora dobbiamo studiare i dati raccolti per proposte mirate a chi sceglie il Sagno. Un risultato positivo è che fa ben sperare e induce a proporre strategie mirate per chi sceglie il Sagno. È in estrema sintesi il giudizio del presidente della sezione di turismo di Confindustria Benevento, Teresa Romano, sull'andamento registrato in queste festività pasquali del territorio. Ottimi riscontri infatti per Benevento, che in tanti hanno scelto affollando i suoi luoghi d'arte e cultura, ma anche per i tanti centri del Sagno. La registrazione del flusso turistico che c'è stato in questo periodo pasquale è una registrazione di numeri importanti. Siamo contenti e anche soddisfatti di quello che è l'andamento dell'indotto turistico nel nostro territorio, delle aree interne. E poi Romano traccia la strada da seguire. Puntiamo sullo studio di questi numeri affinché poi si possa capire in maniera strutturata quali saranno le strategie da intraprendere per poter poi dare un indirizzo specifico al turista mordi e fuggi, al turista stanziale, quello che poi decide di rimanere e di ritornare nella nostra terra. Emergenza carceri in Campania. Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria avvia lo sciopero della fame in segno di protesta. Il garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, fa appello alla politica. Si faccia davvero carico della giustizia e delle carceri italiane. Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo ha avviato lo sciopero della fame per denunciare le criticità che si vivono nelle carceri italiane, una protesta partita questa mattina da Poggio Reale a Napoli e che toccherà anche altre città per poi terminare dinanzi alla sede della Presidenza della Repubblica. La situazione vissuta dal mondo carcerario infatti è sempre più precaria, come ha denunciato ad Otto Channel anche il garante Samuele Ciambriello. 28 suicidi dall'inizio dell'anno in tutta Italia, 6 in Campania, 27 morti per malattia o cause da accertare, anche qui uno in Campania. Il tasso di suicidi è 20 volte superiore ai suicidi delle persone libere. Ciambriello ha rivolto un appello alla politica affinché si occupi concretamente del tema della giustizia. Soltanto in Campania, ad esempio, su 7.378 detenuti, oltre 2.500 devono scontare meno di tre anni, necessario secondo il garante utilizzare più misure alternative. Abbiamo in Italia 90.000 persone con una pena sospesa. Da un momento all'altro le carceri diventeranno una polveriera. Solo l'anno scorso, nel 2022, in Campania abbiamo avuto tra Napoli e Salerno 75 persone uscite dalle carceri innocentemente che hanno avuto 4 milioni di euro per un'ingiusta detenzione. Napoli celebra il suo artigianato come eccellenza da mettere in mostra nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Governo per dare il lustro al Made in Italy. Presentato nella Sala Giunta del Comune di Napoli, l'evento Napoli Crea, in programma lunedì 15 aprile, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy. La ricorrenza è stata istituita a livello nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere il lavoro dei maestri artigiani, che sono gli ambasciatori delle nostre eccellenze nel mondo. Napoli ha tanto da dire sull'artigianato e tante eccellenze. Basti pensare alla moda, ai pastori o semplicemente anche all'arte orafa. Quindi siamo molto contenti di ospitare la presentazione di questa giornata del 15 aprile con un'attenzione che come Comune di Napoli stiamo avendo non solo a supporto di queste attività artigianali, ma per fare in modo che venga conservata la tradizione, dando opportunità lavorative anche ai giovani. Perché Napoli merita, perché Napoli dà l'infa a tutto quello dei prodotti d'eccellenza, di culto, all'abilità sartoriale, all'oreficeria, alle pelli. E quindi è giusto che ci prendiamo questo protagonismo finalmente, no? L'idea di celebrare la giornata nazionale del Made in Italy anche nella città partenopea, custode di una forte tradizione artigianale, è dell'associazione Le Mani di Napoli. Produrre prodotti preziosi è bene, è potere, perché significa determinare il gusto che va girando per il mondo. Determinare i desideri delle persone è un potere. Il processo d'appello per le vittime da esposizione all'amianto dell'ex isochimica si aprirà il prossimo 23 maggio. Saranno discusse davanti ai magistrati di secondo grado gli appelli proposti dalla Procura di Avellino e dalle parti. In primo grado dai giudici del Tribunale di Avellino in composizione collegiale nel gennaio 2022 furono inflitte 4 condanne a 10 anni di reclusione, 23 assoluzioni con 50 mila euro di risarcimento per ciascuna delle famiglie delle vittime. Furono condannati per disastro ambientale ed omicidio colposo o blurimo, oltre ad una serie di violazioni sulle norme di tutela ambientale e sicurezza, due funzionari di Ferrovia dello Stato e due ex dirigenti dell'isochimica. Furono assolti con formula piena perché il fatto non sussiste tutti gli altri imputati, tra ex amministratori e tecnici del comune di Avellino che erano stati accusati, a vario titolo, di disastro ambientale, omessa bonifica ed omissioni in atti d'ufficio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.